Ed eccoci qua con Elisa che con gli occhi azzurri e tutta tatuata ci spiega il suo lavoro che è quello di fare i tatuaggi Tu ti trovi con questo tuo laboratorio, nonostante non me ne intendo di tatuaggi Tu ti trovi Guidonia, provincia di Roma, via Colleferro Via Colleferro è una traversa della via principale di Guidonia E vabbè raccontaci come mai questa passione per i tatuaggi 15 anni, artista Due anni fa hai cominciato? Due anni fa, sì, due anni fa 17 Ok amici, quindi artista c'è il disegnato Artista, faccio liceo artistico, poi ho cominciato a lavorare in uno studio e poi è cominciata la passione Quindi per saper fare i tatuaggi bisogna saper disegnare? Per forza, è obbligatorio proprio Poi imparare delle tecniche, ecco che abbiamo una dieta che non inquadriamo per il momento No, è assurata E' assurata, quindi diciamo è difficile imparare a fare il tatuaggio Ci vuole la bottega, adesso molti ragazzi si mettono a fare i tatuaggi così ma se non fai un po' di bottega te ne vai in uno studio, stai in appoggio è inutile Ah, cioè in bottega diciamo presso un altro artista Presso un altro artista, uno bravo, possibilmente bravo E vedi come fa, ti spiega E come funziona diciamo così? Uno in genere paga o assiste? Dipende, c'è l'allievo prediletto che assiste, sta, aiuta e non paga E' quello che paga che fa la bottega privata Ah ecco proprio, che paga per imparare diciamo, no? Ho capito E poi tu sperimenti anche sul tuo corpo, diciamo te li fai da sola? Ma te li fai fare perché comunque diventa complicatissimo No, si concentri a farlo e ti concentri a sopportare, non è che puoi fare tutte e due cose Certo, ma ci sono anche dei tatuatori diciamo che se li fanno da soli, forse i piccoli tatuagano No, no, anche i grandi Anche i grandi, ovviamente non dietro la schiera, no? No, braccia, gambe, dove arrivi? A qua arrivi pure scomodo Senti, io da persona qualunque dico ma sono un po' contrario a tatuarsi in maniera evidente e in maniera vasta Contraria Tu ovviamente sei contrario perché comunque... Dipende, perché se tu ti fai un discorso artistico unico, particolare, tipo un quadro praticamente Certo Dico una bella schiena Certo, è per sempre Allora sì, va bene Se invece tu ti fai... Una moda, no? I piccetti Certo È normale che o ti fai, non so, magari la fissa di farsi al ghepardo, a zebra, a gatto È più una fissa quella di una persona, però a livello artistico non c'è niente Quanto occorre, diciamo, ovviamente dipende dalla difficoltà, dipende dalla grandezza del tatuaggio Ma di media quelli che tu fai quanto tempo... Dipende, puoi metterci due minuti come sedute da cinque ore l'una Quindi tu, diciamo, vai... la tua parcella è oraria? Dipende dai lavori, più grande meno costa Quindi diciamo c'è un preventivo prima del lavoro, poi viene accettato e viene eseguito E poi più il lavoro mi piace e meno lo pagano Più il lavoro... Mi piace e meno lo pagano E inveceversa, no? E meno mi piace e più lo pagano Mettiamo tutti che sguadra sei, non so se sei... Nessuna Nessuna sguadra, ecco Mettiamo i cari della Roma, le chiedevano di fare un'aquila del Laziale, tu gliela facevi male Ma ascolta!